Cultura si unanime del Consiglio regionale alla lettura libera a scuola. La proposta di legge al Parlamento è stata presentata dalla Commissione Cultura e Istruzione, presieduta da Cristina Giacchi. Ambiente. Sì al bilancio 2021 per il Parco Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il conto di esercizio dell'ente. Mostre. L'omaggio della Toscana alla pittura di Marco Borgianni. Una retrospettiva nel Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio per ricordare la figura artistica e umana. Sì, dal Consiglio regionale della Toscana alla lettura libera nelle scuole. L'Aula ha approvato con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge rivolta al Parlamento ed elaborata dalla Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio regionale. Come ha spiegato Cristina Giacchi, prima firmataria della proposta di legge, l'atto introduce la pratica della lettura libera nel primo e secondo ciclo di istruzione rendendola organica. Dispone che le istituzioni scolastiche disciplini notale pratica come attività periodica da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Con molta soddisfazione oggi il Consiglio regionale all'unanimità ha varato la proposta di legge al Parlamento italiano, la numero 10, che sarà inviata alla Camera nei prossimi giorni, con la quale si chiede al Parlamento di approvare una piccola modifica della legge del 2020 che recava come titolo disposizioni sulla promozione della lettura e che vorrebbe introdurre ogni giorno a scuola almeno 15 minuti di lettura libera. Uno spazio libero per recuperare con la lettura un rapporto più legato alla passione che all'obbligo. Purtroppo i nostri ragazzi spesso leggono solo per obbligo e questo li allontana dalla possibilità di godere di questa attività nel senso più pieno che può offrire. Devo dire che ci ha invitati a questa riflessione una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore nel 2022 sulla base della quale si dimostrava che durante il lockdown il 51% dei ragazzi tra 11 e 18 anni aveva aumentato il numero di libri letti. Questo ci ha fatto pensare che avendo meno distrazioni, con le condizioni di contesto adeguate, un rapporto con la lettura non era in viso ai ragazzi, anzi veniva coltivato. Quindi abbiamo pensato perché non creare questa opportunità ogni giorno a scuola in modo da radicare una buona abitudine. Sappiamo che anche le cose che ci fanno bene spesso non ci abituiamo a farle. Invece la ripetizione quotidiana può portare appunto a maturare una relazione differente con la lettura. Gli studi dei neuroscienziati ci dicono poi che almeno 15 minuti è il tempo necessario per entrare in quella condizione di lettura profonda. Ci vogliono mille secondi. E quindi abbiamo indicato nella legge almeno 15 minuti in modo che gli insegnanti, le scuole liberamente possano organizzarsi. Devo dire che non è un'assoluta novità perché nel Paese esistono già moltissime buone pratiche di questo tipo messe in atto da scuole, da enti locali o anche da organizzazioni. Per esempio il Festival Letteratura di Mantova, la città di Brescia, il Friuli Venezia Giulia ha fatto un progetto regionale e molti molti altri. Ma diciamo in questo caso il vantaggio di poter disporre di un tempo di questo tipo ricadrebbe solo su alcuni ragazzi. La legge che noi vogliamo proporre al Parlamento è un modo per generalizzare questa che riteniamo sia un'opportunità, per offrirla a tutti i ragazzi e le ragazze italiane e a tutti i bambini e le bambine. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza il bilancio d'esercizio 2021 dell'ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, registrando 20 voti favorevoli e 10 contrari. Abbiamo approvato il consuntivo 2021, un consuntivo che riguarda un anno in cui c'è stato il cambiamento della presidenza. Il presidente Bani è subentrato con la nuova rappresentanza della comunità del parco a luglio, quindi è un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse. In ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala, credo, già un primo cambiamento di passo, perché se leggiamo le cifre e i dati del bilancio vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del parco, attività agricole, zootecniche e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel parco si sviluppano è aumentato. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate, ma credo che la presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità, quello di cui c'è bisogno perché il parco è un bene di tutti, è vero, ha un pregio anche naturalistico, ambientale e questo va protetto, però è anche un patrimonio che può essere maggiormente fruito dai cittadini, dalle persone, cogliendo anche questa sensibilità sempre maggiore che si dimostra verso la natura, verso il turismo verde. Innanzitutto bisogna rilevare il ritardo notevolissimo con cui questi atti giungono all'approvazione nelle aule del Consiglio regionale della Toscana, un tema che già di per sé giustifica la bocciatura da parte del gruppo della Lega di questi atti. Oltre questo ragionamento, il gruppo della Lega ha messo in evidenza il fatto che forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato. Andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento, dell'impegno economico da parte della regione toscana, che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco. Anche qui è stato rilevato, per esempio per il Parco Miglialino San Rossore, per quanto riguarda il bilancio consuntivo 2021, addirittura una cifra superiore a un milione per le quote non pagate. E in particolar modo il Comune di Vecchiano, a mia richiesta precisa, agli uffici del Parco Miglialino San Rossore risulta ad oggi ancora in ritardo di ben 228 mila euro. Noi vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica, è il Parco di Miglialino Massaciuccoli e San Rossore, che riguarda la tenuta di San Rossore che è all'interno del parco e prima la tenuta del Presidente della Repubblica, che prevedeva che il Quirinale versasse alla Regione Toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno, che equivalgono a 2 milioni di euro. In realtà la Regione Toscana versa al Parco circa 800 mila euro l'anno. Quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la Regione li trattiene anziché per San Rossore nella pancia del bilancio regionale oppure se quei soldi non arrivano. Quindi vogliamo capire meglio questa vicenda, intanto la segnaliamo, ma stiamo facendo gli atti opportuni per poterla mettere in maniera più decisa la luce della pubblica opinione. La valutazione è sbalorditiva perché dopo, diciamo sempre le stesse cose, arriviamo sempre in ritardo, viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione, vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona. Quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Sono cose che dovrebbero essere approfondite. Sicuramente la regione toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi. Dovrebbe veramente porci un pensiero, una attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli. Perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi e quindi bisogna prendere una decisione. O si finanziano o si cambiano le persone perché qualcosa vuol dire che non funziona. È stata presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, nel corso di una conferenza stampa, la mostra Marco Borgianni, diario di un viaggio, che si apre a Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio il prossimo 22 aprile. Marco Borgianni è stato un artista che si è imposto con determinazione agli occhi del collezionismo e della critica nella sua lunga carriera, dal 1965 ad oggi. Partendo dallo studio dei classici antichi, ha esplorato metodicamente due ambiti, la rappresentazione della natura e lo studio della figura umana. Una mostra che è un omaggio ad un artista che ha voluto rappresentare così bene il proprio territorio. Ringrazio il collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui poter presentare questa bella mostra che avrà luogo a Palazzo Malaspina nelle prossime settimane. Investire in arte, investire in cultura vuol dire investire in libertà. E quando arte e cultura riescono a rappresentare il proprio territorio vuol dire investire in libertà e in identità. E credo che questo sia il senso più importante di questa mostra. E poi i legami familiari che si uniscono, il figlio che oggi è anche il curatore della mostra, un territorio che accoglie queste opere. Insomma, c'è tutta la bellezza della nostra terra. E quindi spero davvero che sia una mostra molto visitata e che arrivi al cuore delle persone. Molto bella, importante, dovuta a un grande artista che ha tanto amato il nostro territorio, il territorio della Toscana e il territorio del Chianti dove viveva e aveva anche un ruolo sociale, civile molto importante. Marco Borgiani è un grande artista. Qui siamo a celebrare il maestro artigiano, il grande artista, colui che ha saputo riempire di contenuti un grande talento. E questo è molto bello. Lo si vedrà bene, penso anche, la vedremo nella mostra a Palazzo Malaspina. Lo si è visto bene in tutte le occasioni in cui Marco Borgiani ha potuto far vedere la sua arte. Grazie alla famiglia, grazie agli sponsor, grazie a chi gli ha voluto bene perché non si poteva non volere bene alla persona, oltre a ammirare l'artista. Siamo qui oggi, nella sede più prestigiosa del Consiglio regionale, per dire che Marco Borgiani è stato e rimarrà un grande artista per la Toscana. È stata una cosa molto emozionante, naturalmente essendo il figlio. e quindi ho curato la mostra fin dall'inizio, ho curato la mostra e il libro e ho ripercorso un po' tutti i periodi perché la mostra in qualche modo si suddivide in cicli. Quindi si parla non solo di sculture, è stata una parte molto importante dell'arte di Babbo, però anche tutti i vari cicli che vanno dal 1990 ad oggi fino ad arrivare a Dei, 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 che è l'ultimo ciclo che in qualche modo è il ciclo più importante che è quello che l'ha consacrato un po' anche come artista. Non è senza commozione che siamo qui appunto a dare il via a una grandissima esposizione che riguarda l'attività e la vita artistica del maestro Borgiani. Un artista, un cittadino di Barberino Tavarnelle che ha speso la propria vita nella ricerca del bello, nella ricerca delle sperimentazioni, dei linguaggi più vari di tutte le forme artistiche che hanno reso conto di quella che è la sua profondità sia della sua anima artistica ma anche delle bellezze del nostro territorio. Un artista che ha guardato a tutto tondo e che non poteva non trovare nella nostra cordoglia, nella nostra ammirazione per la sua opera e per la sua vita spesa anche per gli altri insieme alla sua dedizione per l'arte una grande personale e una grande rassegna appunto nel prestigioso Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio. Grazie a tutti.